Musica Martedì 14 novembre ci troviamo a Udine per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore titolo della giornata alle prestazioni energetiche 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione e tante le aziende che hanno potuto raccontare le soluzioni tecnologiche presenti oggi sul mercato e allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato Abbiamo iniziato una giornata molto attiva con nuovi contatti, nuove collaborazioni, nuovi confronti con nuovi tecnici per cui fino ad oggi c'è stato un buon inizio, anche un inizio di rapporto con nuove aziende e di collaborazione Sicuramente quel plastico rappresenta un po' i sistemi costruttivi della linea Fly che è la linea nella quale la costruzione generale è basso negli ultimi 15 anni è investito molto in senso di tecnologia, di know-how, creando una linea formata da vari elementi complementari la linea Fly per le grandi coperture, grandi luci, fino a 36 metri di luce ad esempio qui in Friuli e in Veneto abbiamo realizzato un magazzino per l'Asvo di 7000 metri con tegoli a 36 metri di luce o altre tipologie costruttive come possono essere la linea Fly Solaio che è una linea Fly per grandi portate, per pluripiani, parcheggi, centri commerciali come il centro commerciale costruito per l'Ikea Villesse e altri centri commerciali dove avevamo l'esigenza di dare prestazioni nei pluripiani di grandi portate www.friuli.com.br